Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Nel caso di Roberta Ragusa, potrebbero presto emergere sviluppi significativi in una vicenda che ha tenuto tutta l'Italia con il fiato sospeso. Era il 13 gennaio 2012, nella tranquilla Gello, un piccolo centro nei pressi di Pisa, quando Roberta svanì nel nulla, avvolta da un alone di mistero che persiste ancora oggi. Nonostante gli incessanti sforzi delle ricerche, il corpo di Roberta è rimasto irrimediabilmente introvabile, alimentando un vortice di domande senza risposta. La giustizia ha indicato Antonio Logli, il coniuge di Roberta, come il principale artefice dietro la misteriosa sparizione della moglie e il conseguente occultamento del suo cadavere. Negli ultimi tempi, si sono verificati sviluppi potenzialmente rivoluzionari, grazie all'operato dei suoi avvocati, che stanno progettando di richiedere una revisione del processo. Questa nuova iniziativa si fonda su nuovi elementi emersi, tra cui le testimonianze di un testimone chiave e la scoperta di reperti interessanti durante un'ispezione condotta nella soffitta della loro abitazione. La domanda rimane aperta, il colpevole è davvero il marito, o potrebbe essere accaduto altro? Lasciate la vostra idea qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.